Come faccio a sbloccare la nuova fase segreta di TolkienJuan? Scopriamolo! Ah, eccoci tornati! Ma il mio gatto veramente... Viene proprio dall'Ohio! Aio, ma che cosa ti è successo? Va bene, oggi dobbiamo sbloccare la nuova fase segreta E per sbloccarla intanto ho lasciato un like Ora, immediatamente, entro 3 secondi Se no il gatto ti verrà in casa Prima dobbiamo dargli il paracetamolo E... Adesso gli diamo 3 pozioni del teschio Una Andiamo alla seconda Ragazzi non mi fate accudire mai il gatto Finisce male Adesso passiamo all'ultima pozione Avrò sbloccato la nuova fase segreta? Vai! Oh mamma mia! Riapro No Mannaggia!